Ciao famiglia Nerazzurra, benvenuto nel nostro canale di notizie dell'Inter, metti mi piace e iscriviti per ricevere quotidianamente le ultime notizie dall'Inter. C'è una data approssimativa per il rinnovo ufficiale di Denzel Danfries con l'Inter. Il terzino destro olandese firmerà un nuovo contratto al rientro dalle vacanze. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, il Danfries è atteso a Milano il 3 agosto, stessa data prevista per il ritorno dei giocatori che hanno raggiunto le semifinali dell'europeo in Germania. Tra questi figurano il connazionale Stéphane De Vries e i francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard. In quell'occasione il Danfries sarà ricevuto presso la sede del club per firmare i documenti e espletare le consuete formalità. La Gazzetta dello Sport afferma che esiste già un accordo verbale con Danfries. Nonostante si tratti ancora di un accordo condizionato, tutto indica che il rinnovo è praticamente completo. Si tratta di uno dei pochi no dipendenti del mercato dell'Inter e l'aspettativa è che venga risolto al più presto. Denzel Danfries dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter, salvo imprevisti dell'ultima ora. Il nuovo accordo prevede uno stipendio di 4 milioni di euro, quasi il doppio di quello che percepisce attualmente. Ancora in fase di definizione la durata esatta del contratto, ma si tratterà di un accordo a lungo termine, con scadenza tra il 2027 e il 2028, come riportato dalla Gazzetta. Il rinnovo di Danfries è visto come un'importante mossa strategica per l'Inter. Fin dal suo arrivo al club, si è distinto come giocatore chiave in difesa e attacco, contribuendo in modo significativo al rendimento della squadra nelle competizioni nazionali e internazionali. Il suo impegno e la costanza delle prestazioni lo hanno reso uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi e dalla dirigenza del club. Il rientro del Danfries il 3 agosto segna un momento importante nella definizione della rosa dell'Inter per la prossima stagione. La firma del nuovo contratto sarà un passo fondamentale per garantire la permanenza del giocatore, dando stabilità e continuità alla squadra tecnica di Simone Inzaghi. La presenza nella stessa data di altri giocatori importanti, come Devry, Turam e Pavard, rafforza l'impegno del club nel mantenere una base solida e competitiva. Con il rinnovo di Danfries, l'Inter spera di consolidare la propria difesa e continuare a competere ad alto livello nelle principali competizioni. L'aumento di stipendio e il prolungamento del contratto riflettono la fiducia del club nel potenziale del giocatore e l'importanza per i piani futuri. La continuità di giocatori chiave come Danfries è essenziale per le ambizioni dell'Inter di vincere titoli e rimanere una delle forze principali del calcio italiano ed europeo. Da tifoso dell'Inter, cosa pensi del rinnovo contrattuale di Danfries? Credi che sia un tassello fondamentale per il successo della squadra nelle prossime stagioni? Lascia la tua opinione nei commenti.